Salve ragazzi, io sono iTuberMik e oggi andiamo ad unboxare le cuffie Pioneer CMJ522 White! Prima di iniziare voglio precisare una cosa. Vi ricordate il video che diceva che la recensione dell'Apple Watch sarebbe uscita presto? Purtroppo non riesco a esportarlo con Final Cut Pro X 10.2.1. Col trial dei 30 giorni di prova. Ora per tutti i miei video, compreso questo, uso iMovie! Iniziamo con l'unboxing! Ecco le fantastiche cuffie dinamiche chiuse! Hanno un'impedenza di 32 ohm e una sensibilità di 105 decibel. Lo spinotto è il classico mini jack da 3,5 mm con il cavo lungo 1.2 metri. Questa è stata una recensione molto veloce, ma noi ci salutiamo e ci vediamo sempre in un altro video. Ciao a tutti da iTuberMik!